Per aver introdotto, promosso e diffuso in Italia la geologia forense, proponendone l'applicazione in caso di rilevanza nazionale come il sequestro e l'omicidio del presidente Aldo More ed altri gravi reati ascrivibili alla criminalità organizzata in proficua e costante collaborazione formativa ed operativa con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia. Il vincitore, Gianni Lombardi. Per girare il prezzo per conto di Gianni Lombardi, Cristina Sartori. Ecco la qua. Grazie mille Cristina. Grazie mille Cristina. Grazie mille Cristina. Grazie mille. Grazie a tutti.